Quali sono le principali criticità che riguardano il diritto alla salute rispetto alle malattie respiratorie e quindi quali sono i miglioramenti che si devono apportare in questo ambito? Senza dubbio una delle tematiche più importanti che deve essere affrontata è quella della modalità di comunicazione in relazione con il paziente attorno a una comunicazione efficace che porti quindi al raggiungimento di un'alleanza terapeutica con il paziente ma non solo con il paziente, può essere costituita dai familiari che lo aiutano nella assunzione dei farmaci l'obiettivo cardine è quello di garantire una diagnosi precoce, una dispensazione delle cure più idonee per quel paziente in quel momento secondo le sue individuali necessità, i profili di cura devono essere personalizzati pur nel rispetto delle indicazioni che sono condivisibili con il mondo scientifico ma ogni persona è differente da un'altra in tutto questo la qualità della comunicazione attraverso la quale passa il ruolo dello specialista del medico di famiglia che rinnova insegnamenti ed educazione al proprio paziente il farmacista del territorio e anche altre figure, infermieri se vi sarà la possibilità di avere a breve un apporto infermieristico all'interno delle nuove unità di cure primarie del territorio i medici di famiglia non lavoreranno più soli, saranno uniti in gruppi e questo faciliterà probabilmente una maggiore presa in carico del paziente, potranno essere utilizzate anche altre figure professionali e accanto all'infermiera di studio anche un assistente di studio particolare che è una figura nuova che verrà formata a breve e che potrà garantire appunto una qualità nella tipologia di assistenza ad esempio convocare il paziente, ricordare che deve effettuare determinati controlli o controllare che l'aderenza all'assunzione del farmaco sia quella corretta